Io sto bene, grazie a Dio la salute è ancora buona e sono molto felice di essere qua a Varese fra amici. A Portland ci sono da un po' più di un anno e mi sto inserendo soprattutto nella comunità italiana e ho diversi amici italiani e anche altri, però a Varese c'è un feeling speciale. Quando vedo queste bandiere dei campionati che abbiamo vinto e che la squadra è riuscita a vincere mi sento così, orgoglioso, mi sento felice di essere tornato. Quando sarò alla partita sarà un'emozione ancora più forte perché penso che i tifosi mi ricorderanno e così veramente è come la mia seconda casa, diciamo, di essere qui a Varese. Questa volta arriva un gruppo di turisti americani che ha organizzato un programma di vedere la zona dei laghi, il Lago Maggiore, il Lago di Como, eccetera. E poi anche vedere le due partite del campionato, Milano-Varese e poi Varese-Cantù. So che il campionato è difficile, però forza Varese. Un saluto così alla squadra, un bocca al lupo per la stagione e anche ai tifosi sempre così sostenitori della squadra. Grazie a tutti.